Ok, dopo il discorso su Riccardo, il fatto che lei accetti Giuseppe è un no. Per me... Ma perché? Non capisco, Giuseppe è una persona, Riccardo è un'altra. Ok, ma tu come donna, no? Non ti senti un ripiego? Un ripiego? Allora, ho un ragazzo che non so neanche quanti anni ha e tu dici che vuoi una sicurezza, un uomo accanto. Ma Fede, tu non puoi conoscere... Allora, anche io parto molto diretta, però tante volte mi accorgo di sbagliare. Cioè, non puoi partire... Io l'ho detto, guarda Giuseppe, non sono partita con questa curiosità, tant'è vero che due volte abbiamo parlato dei nostri bimbi, quindi io non parto con una curiosità. Ma perché devo dire di no quando... Ma, è stato così carino, mi è piaciuto il giusto che ha fatto, mi è piaciuto il modo con cui l'ha fatto. Ma perché? Lo sa lui, io a lui l'ho detto, guarda che io non parto con questa curiosità grande, però perché no, mi viene da dire, ora che mi hai preso in contropiede, no? Ti dico perché no. Riccardo è un'altra persona, quindi se tu fai questo discorso con Riccardo, io ti ho risposto e sono d'accordo. Io li vedo uguali. Li vedi uguali? La differenza tra lui e Riccardo è che lui ha avuto il coraggio di mettersi là, ma coraggio perché fino a venerdì messaggiava con la ragazza ieri sera e io, sinceramente, è come se al lavoro una ragazza ci prova con un mio collega, prende il palo e poi bussa a me. Grazie. 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 Grazie.